Parte il progetto Noi STEM del futuro dello Zonta Club Taranto, una importante iniziativa che vede la collaborazione dell'Unisalento ed il patrocinio morale della provincia di Taranto. Il progetto coinvolge le studentesse della scuola superiore con la finalità specifica di promuovere un approccio consapevole e innovativo allo studio delle STEM, ovvero della scienza, della tecnologia, della ingegneria e della matematica. Tre le docenti universitarie coinvolte, Alessandra Genga, Livia Giotta e Adriana Giangrande, tre professioniste provenienti dall'Università del Salento, che terranno i propri incontri presso la sala conferenze La Caita della provincia di Taranto. L'obiettivo di Zonta Club Taranto, che è un'associazione di donne per le donne, è proprio quello di cercare di avvicinare quanto più possibile le ragazze verso queste professioni, non solo perché mancano i ruoli femminili, ma perché crediamo fermamente che la qualità sia anche proveniente da parte delle donne. Essenzialmente in questa occasione, essendo io docente di chimica ambientale, porterò quello che è il mio studio riguardante l'inquinamento atmosferico e quindi inizierò a parlare ai ragazzi cercando di far capire loro che cos'è l'inquinamento atmosferico e come la scienza si approccia allo studio degli inquinanti in modo tale da capire quelle che sono le sorgenti e l'impatto che può avere sul territorio l'inquinamento.